buonasera buonasera bentornati a tutti ciao buon venerdì a tutti quanti siamo insieme a nostra modella lina guardate che colore colore al top fb questo è un colore veramente particolare guardate ecco come tutti i colori non tutti possono tutti possono fare tutti i colori ma però sono veramente strong per cui dovete accettare chi ama fare queste tipologie di colore deve accettare anche un po di critiche è bellissimo fb guardate come vi propone guardate che bello effetto di V grazie cameraman siamo ai tocchi finali dell'esecuzione di un triplo colore rossa nella parte posteriore con un taglio a V dove personalizza lo strong del taglio la parte superiore viola e guardate che nicchia è un bellissimo giallo nella parte interna e guardate come si valorizza una volta che avete finito di grazie Ali che avete finito la piega si è asciugati c'è un po di piastra usiamo un doppio prodotto un po di cream una crema è uno dietro di strutturante perché usiamo questo connubio uno ci dà sostegno ok una piccola quantità sulla mano e due goccine di oil non oil quindi l'estruttore di system idem di system soft touch è una combinazione favolosa guardate questa si scioglie nelle mani e poi guardate come cambiano ancora i capelli prendono quella bellissima forma naturale oggi con Alina abbiamo dovuto veramente fare una cosa più strong leggermente fuori da ogni classico colore però penso che potete dire che è un colore wow bravissima guardate come lo valorizza il capello il capello anche se trattato ma sano per cui guardate che bellissimo prendo un pettine vi consiglio sempre di usare dei pettine in legno per fare le rifiniture vi spiego perché il legno non porta conduttrice non conduce elettricità per cui non crea di acrostaticità valorizza i capelli e poi adesso inseriamo l'ultimo dei nostri prodotti i capelli per capelli aspettate perché abbiamo la mascherina sapete che lavoriamo sempre in protezione sempre in mascherina guardate che favola possiamo sempre il nostro lucidante glass mist ok guardate che favola guardate che bell'effetto si deve vedere non vedere guardate ancora non so se riuscirà la camera man farci luce a questo bellissimo colore però taglio e colore grazie camera man che ci accende la luce per cui prendiamo ancora più l'effetto e ancora l'effetto di fare dei lavori da favola spero che vi piaccia comunque siamo felicissimi che tutti se lo condividete e ci mettete qualsiasi vostra opinione grazie ancora a tutti un buon sabato una buona settimana a lei che ti sembra a tutti un bacione dell'effetto ciao 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 ciao